Una reazione prevedibile dopo la levata di scudi di pendolari e sindaci che dal 1 gennaio hanno visto lievitare i pedaggi dei tratti della CAV. La concessionaria autostradale regionale e il presidente del Veneto annuncia un piano proprio per i Veneti. Inaccettabile la beffa che passante di Mestre e la tratta Venezia-Padova, le uniche non dello Stato se non al 50%, siano aumentate quando per il resto delle arterie a pagamento l'incremento è stato congelato. 3 euro da Padova d'Olo per un'auto contro i 2,80 euro precedenti, un aumento del 7% che diventa il 10% in caso di mezzi pesanti. Soldi che saranno reinvestiti nel territorio, la spiegazione, ma ai pendolari questa spiegazione non basta. Anche se per coloro che percorrono almeno 20 volte al mese la tratta si riconferma la riduzione del 40% dei pedaggi, ma la riduzione scatta solo al ventesimo transito. Ora una nota firma del governatore fa sapere che il prossimo 10 gennaio sarà presentato al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli il piano per la trasformazione di CAV in CAV 2.0, che prevede la liberalizzazione di un miliardo di euro di investimenti senza più pesare sulle casse dello Stato e una totale autonomia della concessionaria in termini di bilancio, gestione leve tariffarie. Una mossa che permetterebbe l'abolizione delle tariffe o quantomeno una drastica riduzione. E Zaya evidenzia che non è una reazione alla legittima protesta, ma era già stata inserita nella manovra 2020 con due emendamenti bocciati dal Parlamento. Le agevolazioni in mente coinvolgono tutti i residenti in zona che si muovono per motivi di lavoro, familiari o di salute, lungo le direttrici CAV. Un'idea, conclude il presidente, per non mettere le mani nelle tasche dei Veneti, che però dal 1 gennaio si vedono prelevare da quelle stesse tasche qualcosa in più rispetto a prima, se percorrono il passante e la 57.